Il Neolitico. Il Neolitico e la sua rivoluzione. Questo è il titolo che è il nostro libro di storia, Storie e luoghi, di Meschini Persico, dà a questo argomento. Il Neolitico e la sua rivoluzione. La rivoluzione neolitica. L'agricoltura cambia la vita. L'agricoltura ha cambiato la vita ai nostri progenitori. E quindi le cose sono radicalmente cambiate. Ripassando un po' quello che abbiamo già spiegato ieri. Anzitutto abbiamo detto che il Neolitico fa ancora parte della preistoria comunque. Ancora non sono in grado gli uomini di mettere per iscritto, scrivere in qualche modo le loro esperienze. Questa è l'epoca che precede la storia. Può essere studiata solo attraverso testimonianze archeologiche o ambientali. E quindi anche tutto quello che diremo oggi sul Neolitico lo possiamo dedurre dagli scavi archeologici o dalle osservazioni. Certe volte anche osservazioni vedremo delle piante. Ecco, la preistoria comprende il paleolitico, il mesolitico. Che però sul nostro libro non viene più di tanto, non si accenna a quest'età un po' di mezzo. Perché di fatto è un passaggio, insomma, più che altro. I cambiamenti più significativi dell'evoluzione umana avvengono in quest'epoca, nell'epoca della preistoria. Ora, se pensate, per esempio, due milioni e mezzo di anni, solamente gli ultimi cinquemila sono la storia. Tutti gli altri sono preistoria. Ed è chiaro quindi che l'uomo ha fatto i suoi passi più importanti in questo periodo lunghissimo, di due milioni e mezzo, meno cinquemila. Lo sviluppo delle abilità pratiche, i percorsi religiosi e culturali, la sedentarizzazione di alcune civiltà. Come vedremo in particolare, proprio oggi, vedremo che questi gruppi, appunto, di uomini, si stanziano in un posto, si stabiliscono in un posto, senza più spostarsi, mentre prevaleva il nomadismo nel paleolitico. Per tutta la preistoria la popolazione fu scarsa, c'era molto spazio a disposizione. L'uomo preferì legarsi con i suoi simili, dicevamo, per esempio, durante il paleolitico, per organizzare le battute di caccia, oppure per allevare i figli, o per dividere ruoli e compiti. Però, comunque, in questo periodo del paleolitico, se osserviamo anche i resti fossili, capiamo subito che comunque l'uomo era... c'erano pochi uomini, insomma, sulla faccia della terra, no? E questo modo di sostentarsi attraverso la caccia non permetteva agli uomini di moltiplicarsi, diciamo, di aumentare... non c'era questa grande crescita demografica che si avrà invece con la rivoluzione neolitica, con la rivoluzione dell'agricoltura, con il neolitico. C'è un salto notevole, c'è un passaggio notevole, importantissimo, grandissimo, che è avvenuto circa 12.000 anni fa. Cioè, intendo dire, nel 10.000 a.C. circa, è terminata l'ultima glaciazione. Si sono verificati dei cambiamenti climatici, insomma, che hanno anche costretto, se vogliamo, l'uomo a cercare nuove forme di sostentamento, perché la caccia non poteva più assicurare da mangiare per tutti quelli appartenenti ad un gruppo, perché i animali non ce n'erano più, insomma, oppure erano scappati a nord, regioni glaciali, regioni freddissime, e quindi, insomma, volevo dire, era una situazione molto, molto difficile questa. Ecco, questo è un periodo interglaciale, tra una glaciazione e l'altra. Ci sono state svariate glaciazioni, anche, insomma, nei periodi precedenti, ma a noi interessa soprattutto quest'ultima, che è terminata 12.000 anni fa. C'è stato il progressivo ritiro dei ghiacci, il lento avvicinamento dell'ambiente alla forma attuale, no? Quindi all'Europa, per esempio, durante la glaciazione era completamente diversa, quasi tutta coperta da ghiacciai, adesso invece i ghiacciai si ritirano e continuano a ritirarsi, eh? Un generalizzato miglioramento climatico rende possibile il successivo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, appunto, dal, vi ho detto, decimo, non sono nono, ma anche decimo millennio avanti Cristo, dal 10.000 circa avanti Cristo, si creano le condizioni per, cioè, si scopre che i ghiacci si sono ritirati, però ci sono delle piante che è possibile non solamente mangiare e basta immediatamente per la consumazione, ma che è possibile magari, si possono prendere i semi di queste piante, interrare e coltivare. E così si passa dal paleolitico, che sarebbe l'età della pietra antica, paleolitico, in cui gli uomini erano cacciatori e raccoglitori ed erano nomadi, al neolitico, neolitico vuol dire letteralmente l'età della pietra nuova, è la pietra levigata, l'età in cui gli uomini diventano agricoltori, allevatori, artigiani e poi stanziali, cioè sedentari, cioè si fermano in un posto dove costruiscono dei villaggi sempre più elaborati, elaborati, quindi fino ad arrivare alle prime città, elaborati nel senso dei villaggi sempre più ampi, quindi grandi, e con una serie di edifici, soprattutto in muratura, e questa è una cosa che non c'era in precedenza, quindi la costruzione in muratura, la lavorazione dell'argilla che permette anche di utilizzare i mattoni, eccetera, eccetera. Dove nacque il neolitico? Nacque nell'area della mezzaluna fertile, tuttavia ci furono anche altre aree sulla terra in cui o contemporaneamente, o qualche millennio dopo, si sviluppò l'agricoltura, nel senso che i cinesi, piuttosto che popolazioni, diciamo, di indios dell'America meridionale, arrivarono alla scoperta dell'agricoltura, alla rivoluzione agricola, senza aver saputo queste nozioni, queste conoscenze di agricoltura, dalla mezzaluna fertile, quindi dal Medio Oriente o Vicino Oriente, come volete chiamarlo. Vuol dire che quindi era un tipo di evoluzione che comunque in generale fa l'uomo, anche se non lo apprende da altri uomini, anche in zone, in regioni diverse sulla terra. Quando nacque il neolitico? Ecco, attenzione, noi, ecco, benissimo, ora ci siamo, ci siamo perfettamente, anche perché effettivamente questa slide è una slide tratta dal nostro libro di testo, nel senso che è proprio la slide del libro di testo Storie e Luoghi, della casa editrice Archimede, che fa parte del gruppo Pearson. Vedete qua, quando avete il libro c'è Archimede Edizioni, e poi in fondo proprio questa stessa riga, con su scritto Pearson. È un grande gruppo di case editrici, di cui fa parte anche la Bruno Mondadori, Paravia, eccetera, è che ci permette, questi slide tra l'altro sono a disposizione di tutti quelli che adottano questo libro, no? Ci permette di utilizzare, quindi di avere anche altri strumenti, oltre al libro di testo cartaceo, eh? Perché nacque l'agricoltura? Ebbene, ci fu un'evoluzione della raccolta selettiva. Cosa vuol dire? Prima, appunto, c'era la caccia e la raccolta di semi, no? I semi venivano raccolti spontaneamente dalla terra e venivano mangiati, consumati. Ora, però, che cosa succede? Si osserva che alcune piante magari sono più grandi di altre. Allora, qualcuno intelligentemente pensa a questa cosa. I pianti di queste, scusate, i semi di queste piante più alti, più grandi di altre, più grossi, eccetera, invece di mangiarli subito, li mettiamo ancora nuovamente in terra. Li interriamo, li coltiviamo. E così, eccola come è avvenuta la selezione. In realtà, se noi vedessimo una spiga di mais, una spiga di grano, di frumento, o una pannocchia di gran turco, così com'era nell'età preistorica, e così come si può trovare certe volte anche ai cigli delle strade, non vi è mai capitato di vedere delle spighettine piccole ai cigli delle strade, di guardare e vedere come sono piccole, verdi, no? Ecco, erano probabilmente così, no? I cereali all'inizio, durante l'età del paleolitico. Poi a qualcuno è venuta un'idea molto intelligente. Ha visto che alcune di queste spighe erano più grandi, le ha coltivate e si è creato quindi un processo di raccolta selettiva, di selezione. E solo grazie a questo processo che poi mano a mano ci sono state spighe sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi. Perché venivano privilegiate, selezionate e quindi coltivate proprio quelle che erano più grosse. Proprio ad arrivare a spighe enormi, come possiamo vedere, nei nostri campi di grano, anche abbastanza vicino a qui. Ecco, la pressione ambientale, cioè il fatto di essere costretti a vivere ormai non più di caccia, perché non c'erano più animali, anche questo costringe gli uomini a trovare delle soluzioni alternative. La pressione demografica, anche. Cioè il fatto che ci sono sempre più bocche da sfamare e quindi bisogna trovare un modo, un metodo per dar da mangiare a tutti. Perché si affermò l'agricoltura? L'agricoltura fu la risposta vincente al problema della sopravvivenza della specie. Cioè far vivere tutta questa gente. Ora addirittura tanti studiosi, anche giornalisti, certe volte dicono che questa nostra scelta, cioè la scelta dell'agricoltura, come tutte le volte, ragazzi, tutte le volte, imparate questa legge della vita, tutte le volte che nella vita fate delle scelte, avete dei grandi vantaggi, ma avete anche degli svantaggi, avete anche dei difetti. È così, quando l'uomo ha scelto l'agricoltura al posto della caccia, evidentemente ha ottenuto dei grandi, enormi vantaggi, ma ci sono state anche delle ripercussioni non così positive. Ad esempio, vi faccio un esempio. L'uomo durante il periodo del paleolitico lavorava molto meno. Cioè, non cinque giorni, sei giorni alla settimana, ma lavorava un giorno alla settimana. Cacciava gli animali e poi gli altri sei giorni si riposava e mangiava. Come? Come il prete una volta alla settimana. Eh, vabbè, cosa vuoi. Il prete c'ha anche le messe quotidiane, però. Vabbè, comunque, era per dire. Questo è uno svantaggio. Ce ne sono altri, no? Eventualmente. A livello, per esempio, non c'erano gli obesi nel periodo del paleolitico. Gli obesi. Oppure il tipo di cibo, no? Era diverso. Era pieno di proteine, il cibo, durante il periodo del paleolitico. Invece qui aumenta, nella nostra dieta, aumentano i carboidrati. E oggi ci stiamo rendendo conto che abbiamo un po' esagerato con i carboidrati. Eh, insomma, perché... Quello senz'altro. Però, certe volte, l'alimentazione non è equilibrata. Vabbè, comunque, adesso stavo dicendo alcune cose anche abbastanza amene su cui farvi riflettere. Per dirvi che comunque c'è stata una scelta. Si è scelto questo, perché questo permetteva a più gente di mangiare, di sfamarsi. Ma, ripeto, come ogni scelta, non è che abbia sempre e solamente degli aspetti positivi. Oltre all'agricoltura, furono addomesticati gli animali. Quindi ci nacque l'allevamento. Poi ci fu la lavorazione della ceramica, quindi argilla, terra cotta, ceramica. Quindi l'artigianato diventò importantissimo. Quindi ci fu una differenziazione di ruoli, ci fu una differenziazione di funzioni e di lavori. Mentre tutti quanti prima facevano le cacciatorie e basta. Queste sono a sinistra le innovazioni, a destra sono le conseguenze. Adesso vediamo le conseguenze. però prima di arrivare alle conseguenze vediamo quali sono le innovazioni. Sì, dimmi. L'agricoltura si affermò perché era in grado di rispondere alle esigenze di dare da mangiare a più gente, quindi alle esigenze di crescita demografica e perché riusciva a sostituire la caccia perché di animali non ce ne erano più in sostanza. Quindi non c'erano più animali perché faccio l'esempio proprio del vicino del vicino oriente no? Perché con la fine della gacciazione molti animali si erano spostati verso nord e altri addirittura si erano estinti. Per esempio c'erano gruppi di cacciatori del paleolitico che si nutrivano di mammut e non c'era problema. Questi animali scusate un po' di poco rispetto per questi animali erano un po' deficienti insomma. Nel senso che era sufficiente costringerli ad andare in un burrone a cadere giù nel burrone a morire e tu poi avevi da mangiare per mesi quindi senza nessun problema. Questi si estinguono e quindi si creano grossi problemi di alimentazione e questi problemi vengono risolti proprio con l'agricoltura. la metallurgia di questo parleremo soprattutto la prossima volta ricordate che la prossima lezione di storia è giovedì benessi adesso vediamo invece le conseguenze di queste innovazioni la differenziazione sociale nel senso che appunto c'era adesso chi coltivava quindi si creano delle classi sociali esempio classi sociali di coltivatori e di artigiani sì a dire la verità nella prima fase del neolitico non c'è tutta questa differenziazione sociale anche della differenziazione sociale e della gerarchia parleremo giovedì giovedì quando parleremo dell'età dei metalli delle città eccetera invece adesso chi è che sta parlando? invece adesso dobbiamo parlare quello sì della divisione del lavoro quindi abbiamo visto almeno i contadini gli allevatori e gli artigiani e quindi lavori distinti con delle peculiarità che prima erano solo tutti i cacciatori lo sviluppo dei commerci e degli scambi anche questo un po' lento all'inizio però con l'andare avanti del tempo si costruirono le prime piroghe e quindi si cercò di commerciare di scambiare all'inizio si usava solamente come dire pedibus cioè con i piedi con i piedi si facevano dei tratti per andare a barattare magari dei generi dei beni eccetera poi come abbiamo detto le prime imbarcazioni e mano a mano quindi lo sviluppo di questo commercio oh chi è che sta parlando? poi la nascita delle società urbane quindi delle prime città e la formazione degli stati anche di questo parleremo soprattutto giovedì e quindi si passerà vedremo dal villaggio alle città scusate un secondo perché devo salutare una alunna ecco stavamo dicendo osserviamo proprio il processo che porta dal villaggio quindi abbiamo detto si costruiscono tanti villaggi in questo periodo del Neolitico alla città ecco anzitutto l'agricoltura favorisce la sedentarizzazione se dobbiamo coltivare un campo rimaniamo non siamo più nomadi come nel periodo della caccia seguiamo non so gli animali e magari sfruttiamo un territorio raccolta di frutti spontanei poi dobbiamo spostarci perché i frutti sono finiti diciamo e quindi siamo nomadi invece nel periodo del Neolitico appunto c'è lo stanziamento la sedentarizzazione si creano quindi tantissimi villaggi in questo periodo del Neolitico il villaggio Neolitico fortunatamente riuscendo a coltivare sempre di più si forma un surplus si formano delle eccedenze anche questo ha le sue conseguenze crescono gli scambi c'è una crescita degli scambi cioè visto che ci sono delle eccedenze che cosa ce ne facciamo di questi prodotti in più ad esempio di questa farina in più che abbiamo possiamo scambiarla con altre popolazioni che magari hanno degli altri beni che ci possono essere utili ad esempio anche c'è il baratto senz'altro è il periodo del baratto questo allora se nasce l'agricoltura vuol dire che assolutamente qui è l'età della pietra nuova vuol dire che tra i tanti manufatti utensili che vengono utilizzati in questo periodo c'è proprio l'aratro ovviamente l'aratro in una prima fase sarà semplicemente una scheggia di pietra una pietra puntita in manicata che io utilizzerò per solcare il terreno e metterci dentro i semi poi andando avanti con la storia dal momento che c'è l'allevamento capirò che potrò usare i buoi per trainare un aratro per fare solchi molto più profondi e per non faticare io a solcare il terreno come facevano all'inizio certo che c'è l'aratro sicuramente quindi c'è una maggiore organizzazione siccome c'è un surplus attenzione nel momento in cui ci sono le eccedenze si creano i presupposti perché ci sia una classe che deve gestire queste eccedenze cioè una classe di potenti una classe ad esempio di sacerdoti di nobili come li hai chiamati tu benissimo che devono gestire queste eccedenze quindi continuano ad esserci i contadini ma c'è anche chi gestisce queste eccedenze quindi c'è un'organizzazione della produzione e questo queste sono tutte cose che favoriranno il passaggio dal villaggio alla città ecco la città si contraddistingue per delle funzioni economiche quindi scambi quindi mercati la città è caratterizzata da mercati dove si scambiano queste eccedenze eccetera e da funzioni politiche quindi una vera e propria gerarchia questo lo vedremo soprattutto giovedì e quindi differenziazione di condizione sociale stratificazione sociale piramide sociale e quindi ovviamente nella città ci saranno anche i re come abbiamo detto Gilgamesh che è il re di una città appunto sumera ormai con i sumeri saremo proprio anche alla fine del Neolitico e all'inizio dell'età dei metalli e della storia qui vedete proprio dei caratteri cuneiformi in una tavoletta quindi ritrovati sicuramente nella zona della e l'onora per favore stai zitta chiaro? sto spiegando non puoi parlare tu se parlo io allora stavamo dicendo questa è una tavoletta in cui sono presenti questi caratteri cuneiformi quindi un po' ideografici anche vedete non solamente caratteri stilizzati ma anche caratteri che certe volte imitano degli oggetti oppure degli animali o delle attività ecco la rivoluzione neolitica infatti presuppone anche lo sviluppo della cultura simbolica pensate alle statuette ai monili ai gioielli ai vasi alle collane ai bracciali insomma tutti questi manufatti perché abbiamo detto che c'era artigianato in questo periodo che si svilupperanno sempre di più poi però ci sono anche le esigenze pratiche quindi tu stavi parlando dell'aratro poi abbiamo detto le macine i pestelli quindi tantissimi oggetti che servono anche appunto per per esempio la cottura anche dei semi la conservazione dei semi e la trasformazione dei semi in farina ecco quindi lo sviluppo dei commerci in questo periodo questo favorirà la scrittura pensate che i primi documenti scritti avevano proprio questo scopo una specie di contratto no? in cui si metteva per iscritto che c'era uno scambio che c'era un baratto di un certo tipo oppure che i contadini dovevano versare 30 sacchi di non so di grano di farina al tempio no? che poi il tempio redistribuiva equamente questi questi beni questi prodotti eccetera queste cose vengono messe per iscritto proprio con queste queste tavolette una delle prime proprio questa no? qui si sancivano venivano messe per iscritto queste queste cose ma anche molto pratiche oppure delle memorie quindi ricordo ricordo del fatto che in quella città come vi hanno detto c'erano stati quei re no? viene riportato anche il nome di questi re uno di questi è Gilgamesh abbiamo detto no? quindi per cercare di mantenere mettere per iscritto qualcosa che è stato vissuto e non dimenticarlo più bene bravo bravissimo questo è il come dire è un po' invece la fase iniziale del neolitico cioè le motivazioni per cui si è imposto il neolitico l'innalzamento della temperatura che ha portato allo scioglimento dei ghiacci la nascita di deserti e savane al posto delle foreste i cambiamenti nell'ambiente l'innalzamento degli oceani divisioni fra i continenti l'estinzione soprattutto di alcune specie di grandi erbivori determinano la fine della caccia non si può più vivere di caccia se per esempio le remme le remme non si estinguono del tutto però come abbiamo detto ormai si dirigono quelle poche che sono rimaste solamente in zone subpolari oppure l'estinzione di altre razze per esempio anche il panda non è quasi del tutto estinto ma non del tutto no erano proprio gli erbivori che davano da mangiare tantissimo no si estinguono quasi per cui si creano i presupposti per un forte cambiamento per un attimo alla fine della cacciazione si assiste a un calo demografico dal momento che non ci sono più questi animali magari da mangiare poi però grazie alla nascita dell'agricoltura si assisterà ad uno sviluppo a una crescita demografica esponenziale basta per favore ecco quindi nell'età del paleolitico avevamo nomadismo caccia e raccolta di frutti spontanei pietra scheggiata qui invece abbiamo adesso nel neolitico la sedentarietà i primi villaggi l'agricoltura l'allevamento la pietra levigata perché per certi utensili abbiamo detto occorre pensate appunto le ciotole piuttosto che macine e pestelli occorre levigare la pietra è una tecnica che si sviluppa in questo periodo e poi la ceramica quindi l'argilla la ceramica lavorata la levigatura della pietra è diversa dalla scheggiatura alcune cose vengono un pochettino ripetute perché sono slide prese un po' di qua e di là però altre cose sono nuove per esempio l'invenzione dei primi rudimentali telai quindi per esempio dalla natura si possono anzitutto prendere delle fibre vegetali che possono essere utilizzate per creare dei vestiti quindi il lino il cotone oppure con l'allevamento si possono tosare le pecore quindi la lana si inventano le prime imbarcazioni a remi dicevamo come le piroghe all'inizio di legno molto fatiscenti diciamo così ma poi sempre più elaborate ci sono innovazioni tecniche come la rotazione delle colture nel senso che all'inizio l'agricoltura si afferma in questo modo si fa terra bruciata di un territorio e si mettono i semi in quel territorio poi invece si scopre la rotazione delle colture cioè si scopre che magari lasciando a riposo un campo un terreno per un anno si può tornare a sfruttare dopo un anno di pausa ecco messa a magese dei campi vuol dire appunto questo concimazione nascita della scrittura questi sono alcuni oggetti appunto di pietra levigata come asce punte di lancia di frecce tipiche del neolitico chiaro che la lavorazione degli utensili diventa sempre più precisa ecco quindi abbiamo già detto che già nel periodo precedente vi ricordate con l'homo sapiens sapiens si era scoperto l'arco però viene perfezionata questa scoperta in questo in questo periodo gli strumenti tipici del neolitico sono le asce che sono utili per disboscare macine mortai per i cereali lame affilate punte di freccia zappe di legno e di osso ecco stavi chiedendo dell'aratro l'aratro a partire dal quarto millennio avanti cristo il telaio per la tessitura le prime imbarcazioni di cui abbiamo parlato e che abbiamo visto già nelle slide precedenti ecco la rivoluzione urbana abbiamo visto la rivoluzione dell'agricoltura e poi c'è la rivoluzione delle città che sostituiscono i villaggi e questo avviene nella bassa mesopotamia proprio nella città di uruk che abbiamo già studiato in epica era la città di ghirgamesh e in altre città limitrofe dei sumeri come umma lagash e ur quando circa la metà del quarto millennio abbiamo un passaggio fondamentale che è il passaggio dalla preistoria alla storia e questo avviene in quest'area che come vedete ha una sorta di forma mezzaluna e per questo motivo è stata chiamata area della mezzaluna fertile queste sono invece altre zone in cui si sviluppa l'agricoltura in periodi diversi come appunto il subcontinente indiano nella valle dell'Indo oppure in Cina dove presso il corso dei fiumi del fiume giallo e del fiume azzurro e poi nell'Egitto nella valle dell'Indo e poi come abbiamo già anticipato anche nella Sud America il clima più asciutto favorì la diffusione dei cereali selvatici in alcune zone del mondo alla domesticazione delle piante si accompagnò quella degli animali caratterizzati ecco gli animali che già comunque erano in gruppo fra di loro quindi diciamo le pecore piuttosto che le capre buoi eccetera un po' più docili quindi meno selvaggi rispetto ad altri e che si riproducevano rapidamente sono gli animali che diventano oggetto dell'addomesticamento quindi dell'allevamento ecco potete vedere molto bella questa cartina perché ci fa vedere quali sono i cereali selvatici che si cominciano a coltivare nella zona perché l'Italia praticamente conoscerà l'agricoltura millenni dopo ecco l'Europa l'Italia conosceranno l'agricoltura millenni dopo certamente i semi quindi le piante verranno prese proprio dalla zona vicino del Medio Oriente portati in Italia i cereali selvatici hanno un alto potere nutritivo sono piante annue quindi che danno un frutto ogni anno a crescita rapida si possono conservare a lungo e così nasce l'agricoltura stavi dicendo? credo che i primi i semi siano stati portati da colungo quando quando ha scoperto l'America ah sì certe piante tipo il cacao la patata eccetera le portate di Cristoforo Colombo in Europa senz'altro però il grano l'orzo i legumi e questi come dire siano prima sviluppati nell'area della mezzanuna fertile poi dopo solo in seguito si svilupparono anche in Europa ecco vedete poi altre zone sono caratterizzate da cereali diversi come il riso in India e in Cina il miglio sempre in Cina e appunto il mais e la patata ovviamente in America si parla di transizione neolitica quando si passa adesso senza stare lì troppo a leggere tutto quanto per quanto alla slide quando si passa dal nomadismo alla sedentarietà e quindi la prima divisione del lavoro del potere e ci sono nuovi atteggiamenti mentali i cambiamenti legati all'introduzione dell'agricoltura furono lenti però furono davvero cambiamenti rivoluzionari adesso noi lo leggiamo come un paragrafo del nostro libro di storia ci sembra una cosa avvenuta immediatamente in realtà comunque ci sono voluti millenni per queste evoluzioni per queste trasformazioni la conseguenza più evidente fu l'accelerazione del progresso nella società nelle società che attuarono questo tipo di trasformazione ecco qui si istituisce una relazione tra pianta e seme ecco qui il discorso che la cosa più spontanea naturale quando vediamo magari un frutto ecco è quello di prenderlo di mangiarlo immediatamente invece qui abbiamo proprio l'idea di piantare queste queste piante si tratta di processi che sono avvenuti in un lungo arco di tempo lavorare la terra seminare coprire i semi mietere macinare ecco le attività tipiche dell'agricoltura sono attività che coprono tutto l'anno cioè tutto l'anno il contadino deve curare questi semi non è che basta semplicemente metterli in terra e quindi come stavo dicendo è anche un tipo di lavoro completamente diverso come il ritmo rispetto al lavoro della caccia che invece è concentrato in alcuni momenti in alcuni tempi precisi molto intensi sicuramente anche rischiosi però poi prevede lunghi periodi di pausa e di riposo questo questo però davvero adesso vorrei andare assolutamente all'allevamento vediamo se riusciamo a a vedere l'allevamento qui potete vedere come finalmente nei millenni seguenti l'agricoltura si sia diffusa anche in Europa nasce quindi nella zona della mezzaluna fertile ma poi si diffonde anche in Europa e poi contemporaneamente senza che ci siano rapporti legami anche in altre zone del pianeta nei millenni seguenti sempre e questa è la diffusione dell'agricoltura oggi come vedete ben diversa ecco stavamo dicendo dell'allevamento quindi bene proprio la fine della glaciazione permise da una parte abbiamo detto l'estinzione di alcune specie animali dall'altra lo sviluppo di altre specie animali come maiali pecore capri asni galline per cui ben presto l'uomo iniziò a sfruttare queste nuove risorse quindi le donne iniziarono a piantare i chicchi più grossi per poi mettere le spighe e qui in questo modo dicevamo nacque l'agricoltura però le nuove specie animali vennero addomesticate nacque quindi anche l'allevamento qui vedete per esempio una bellissima immagine un dipinto rupestre che ci testimonia come ad esempio tra il quarto e quinto millennio in Algeria si praticava l'allevamento del bestiame per cui l'uomo non aveva più bisogno di essere nomade spostarsi da un territorio all'altro ma lavorava il campo e aveva degli animali e diventano sedentari questo contribuì a far nascere anche la ceramica e la pittura come nuove tecniche venne inventata la ruota elemento rivoluzionario che venne applicata anche a carri per il trasporto di merce oltre che per la lavorazione di prodotti come il frumento si creò una fitta rete di scambi fra popolazioni nomade e popolazioni sedentari la fusione dei metalli ne parleremo una volta prossima è abbastanza tra virgolette casuale la prima volta no? cioè praticamente c'erano delle pietre che erano magari vicine ad un fuoco e vicino a questo fuoco queste pietre fondono ah sì sì no ascoltate purtroppo questo cioè avete i vostri momenti di pausa avete l'intervallo anche non è che iniziamo subito non è che iniziamo subito la lezione dopo l'intervallo ma poi una volta che si incomincia si lavora fino al suono della campanella questo fino al suono della campanella oh benissimo bravi bravi ragazzi le popolazioni antiche silenzio le popolazioni antiche si stanziarono vicino ai fiumi perché i corsi d'acqua avevano dei vantaggi per l'irrigazione dei campi per far bere le bestie e per lavare se ricordate la cartina che abbiamo visto in precedenza abbiamo notato che queste civiltà agricole si costituiscono proprio nei pressi del tigre e delle eufrate quella della mezzaruna fertile nei pressi dell'indo nei pressi dei fiumi della Cina oppure del Nilo in Africa il fiume era importante anche come via di trasporto per l'uomo e la sua navigazione era spesso sfruttata con questo fine questo è ancora il neolitico invece mi piace molto questa slide perché dobbiamo dire una cosa importantissima cioè che le donne ebbero un ruolo fondamentale in questa rivoluzione neolitica era affidata a loro la raccolta dei frutti spontanei che integrava l'alimentazione dei cacciatori e allora furono loro le prime che scoprirono il ciclo vitale dei vegetali e di come fosse davvero fruttuoso coltivare questi vegetali invece che consumarli immediatamente quindi ebbero un ruolo fondamentale all'inizio del neolitico sicuramente anche dal punto di vista della considerazione sociale importantissimo poi però purtroppo come vedremo la volta prossima gli uomini ripresero il potere e sottomisero essenzialmente le donne e l'oneremo Grazie a tutti.